Per ora sembra che il problema sia limitato solo a prima cala, ma a Molfetta è comunque allarme per la temuta alga tossica. Il nome scientifico è Ostreopsio Sovata ed è lei la protagonista non desiderata delle coste dell'Adriatico. A Molfetta, l'Arpa Puglia, l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, a luglio ha riscontrato una concentrazione oltre i limiti indicati dalle linee guida del Ministero della Salute. La fioritura di questa microalga è un fenomeno naturale in questo periodo a causa della concomitanza di condizioni meteoclimatiche che ne favoriscono lo sviluppo. L'Arpa ha allertato il comune che ha diffuso un comunicato, ma la balneazione non è stata vietata. Tuffi al sicuro quindi, ma per evitare guai l'ASLA ha messo a punto un vademecum. I sintomi principali sono febbre, faringite, tosse cefalea, dermatite e nausea. Ma per prevenire in rischio e gestire al meglio gli effetti occorre allontanarsi dalla spiaggia. Talvolta sono sufficienti i spostamenti di alcune decine di metri per alleviare o eliminare il malessere dovuto alle inalazioni. Soggiornando in locali dotati di impianto di condizionamento, sembra che in alcuni casi i disturbi scompaiano rapidamente. Infine, secondo l'ASLA, maggiore attenzione va riservata nei confronti di bambini e anziani, persone affette da patologie dell'apparato respiratorio, quali asmatici e allergici. Ad ogni modo è bene sapere che fortunatamente l'effetto dell'alga tossica nella stragrande maggioranza dei casi dura poco. Di norma tutto passa nell'arco di 24-48 ore senza lasciare traccia.